Questo incontro di oggi per l'Italia è un cambio di passo importantissimo nelle sue politiche nel Mediterraneo. Ho avuto modo di dire al Signor Ministro, all'amico Masser, che l'Italia guarda al Marocco come un paese strategico per poter definire una politica di sistema di tutto il Mediterraneo. Il partenariato strategico che abbiamo sottoscritto, sono veramente contento di averlo sottoscritto con te oggi, è un partenariato che ci consente di avviare un percorso che non riguarda solo l'Italia e il Marocco, ma può riguardare, se vorremmo, tanti paesi dell'Europa e tanti paesi ove possibile del Nord Africa. Grazie.